Bene, allora adesso prendo io le redini in mano di questa cosa qui e iniziamo a fare due riprese ben fatte. Bravo. Wow, come sei professional. Sto cercando di svasare questa piantina che è un po' tenera, in effetti. Ascati qua. Mi avete proprio un favore. Notiamo che si è proprio un talento naturale. Facciamo prima andare di mani. Proprio così, è un po' wild. Questo dove lo vogliamo mettere? Lì, sul tavolo, dai, sta bene, no? Bene, allora adesso prendo io le redini in mano di questa cosa qui e iniziamo a fare due riprese ben fatte. Qui c'è un po' tutta la mia passione delle piante. Quanto mi hai fatto disperare. Mi sono messo un po' a trovare la quadra su cosa mi piaceva, insomma. Sono tutte piante tendenzialmente grasso, comunque piante che stanno bene tutto l'anno. Adatte a me, direi, così. Sì, lei così riesce a non ammazzarle. Io questo in realtà forse è quello che amo di più. Racconta questa meraviglia. Questo limone qua io non lo volevo a tutti i costi e niente, mi ho obbligato a prendere il limone e il mandarino. Perché ti ho obbligato a prenderlo? Racconta le vere motivazioni. Ma perché era colorato, gli piacevano i vasi blu. C'è MTV, ora sono io a tenere la camera, quindi vi farò vedere un pochino quali sono, secondo l'Arianna, i suoi grandi segreti con le follower. Posso farcela, il montaggio è la parte più complicata. Raccontaci un pochino. Allora, partiamo dall'elemento principale che è la luce. Perfetto. Se questo è il tastino giusto potete regolarla, potete scegliere la luce più fredda, quando avete tonalità già calde, oppure più calda se invece siete bianche e cadaveriche e volete scaldarvi un po'. Altra cosa fondamentale, il silenzio e l'ordine dietro. Non ci deve essere nessuno, quindi né gatti né fidanzati che si imbucano. Terzo punto, non c'è un terzo punto, bastano solo queste due cose. Sei in gamba ad iscrivervi. Posizioniamo il telefono. Dopodiché partiamo con la storia. Allora ragazze, sto facendo questa storia perché stiamo ancora registrando insieme MTV. Non sono una pazza, quindi sappiatelo, è tutto normale, poi capirete, poi vedrete. Beh, bello, tutto chiaro, bella storia, ma con tutto il posto che avevi, proprio qua che stavo guardando la TV io? Cioè hai scelto proprio, c'è un motivo se hai scelto proprio... È il punto come puoi ben vedere dove c'è più atmosfera. Qua non è la mia ricerca. Qua non è l'occhiata... Grazie a tutti